Una mostra al Museo Archeologico realizzata dagli allievi del Master in Gioiello dell'Università di Siena. Innanzitutto, come è arrivato questo lavoro? La mostra presenta i lavori finali degli allievi del Master in Storia Design e Marketing del Gioiello dell'Università di Siena del campus di Arezzo. Sono i gioielli realizzati dagli allievi durante il tirocinio e lo stagio nelle aziende. E come ogni anno noi diamo ai ragazzi un argomento particolare, diverso tutti gli anni. Quest'anno l'argomento era appunto la ceramica sigillata retina e per questo motivo che la mostra ci è sembrato giusto appunto farla al Museo Archeologico. Perché il Museo Archeologico, come vi dirà la direttrice, ha una formidabile collezione di questa ceramica. Il Museo Archeologico di Arezzo ospita questa bella mostra del corso di Master in Marketing del Gioiello. E cosa significa per voi e l'importanza di ospitare appunto una mostra di questo tipo? Siamo felicissimi di poter dare spazio e luce alle creazioni di questi giovani e ragazzi e ragazze che appunto hanno creato gioielli traendo ispirazione dalle ceramiche antiche di epoca romana che si conservano all'interno del Museo Archeologico. È un modo per rendere più accogliente l'arrivo, l'ingresso all'interno del Museo. È un modo appunto per esaltare anche questa felice interazione fra la creatività, le idee anche innovative dei nostri ragazzi e invece la tradizione veramente straordinaria che ci viene dal passato. Enrico, che cosa ha significato per te partecipare a questo progetto? Cosa hai realizzato in particolare? Allora, io ho realizzato un bracciale alla schiava. Mi sono ispirato soprattutto alle matrici di questi vasi. Le matrici di questi vasi ovviamente non vedi quello che risulta quando vedi queste matrici. Anche io ho realizzato quindi un bracciale che solamente con il riflesso della luce riesce a vedere cosa è rappresentato in superficie che in questo caso è un'immagine ripresa da uno di questi vasi. Inoltre, oltre alle decorazioni in superficie, anche quelle all'interno sono dei trafori che sono stati ripresi da decorazioni di questi vasi. È stato realizzato poi in oro rosa, ovviamente ramato in oro rosa, che ricorda così il colore di questi vasi. Inoltre, sulla superficie ho anche inciso con una tecnica grafica che si chiama punta secca ed è una tecnica che è stata molto sottovalutata negli anni, ma a parer di me è una delle tecniche migliori perché è una delle più difficili da realizzare. Grazie.